ok siamo pronti siamo partiti perfetto beh innanzitutto facciamo i saluti in generale intanto che entrate nella diretta salutiamo tutti ringraziamo tutti per partecipare come sempre alle nostre dirette del giovedì sera e della domenica approfittiamo per farvi l'invito per questa domenica per il caffè della fonte avremo un ospite molto speciale antonio pacetti che ci parlerà della numerologia vedica quindi vi invitiamo domenica alle ore 16 ad assistere a questa altra puntata del caffè della fonte che è molto interessante assolutamente assolutamente perché a me l'idia piace molto condividere i punti di vista delle altre persone allargare i nostri e gli altrui orizzonti quindi portare a conoscenza più persone possibili di quello che può essere una o tante strade per conoscere se stessi per conoscere la spiritualità l'amore la luce che guida e accompagna la nostra vita anche quando pensiamo che quella luce non ci sia si sia spenta in realtà c'è solo un po' o tenebrata la luce non si spegne mai voglio dire perché è una luce divina però magari noi possiamo dare una mano per cercare di nascondere la nostra luce che poi magari al momento che ci serve non la troviamo nemmeno però c'è sempre c'è sempre fortunatamente non 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 sparisce non scompare ed è programmata perché noi siamo programmati assolutamente nella luce nati nella luce viviamo nella luce moriamo nella luce e dovremmo vivere nella luce che lì invece c'è un punto interrogativo ed è un po' più difficoltosa la faccenda perché vivere nella luce significa imparare a vivere imparare ad essere persone imparare ad avere una continuità mentre viviamo che deve essere un innamoramento alla luce non dovremmo in alcun modo pensare di sfiorare nemmeno per sbaglio l'oscurità perché poi l'oscurità impedisce alla luce di essere in presenza all'istante perché poi non è come l'interruttore dove noi lo schiacciamo e subito si accende la lampadina purtroppo la luce divina non è così non è che noi possiamo fare questo lavoro di avere questo interruttore e ci vuole più dopo il suo tempo quindi fortunatamente dentro di noi la luce è sempre accesa però il nostro corpo la nostra materia la nostra mente la materialità che ci circonda nel tempo e stiamo parlando non adesso ma migliaia e migliaia di anni di evoluzione hanno portato anche la materia ad essere sempre più pesante al punto in cui questa luce sembra essersi affievolita del tutto e oggi e da qui iniziamo l'argomento di questa sera che sarà la bilancia positiva e negativa per capire quali sono i lati di questa medaglia i piatti di questa bilancia tra ciò che è reale ciò che non lo è ciò che sappiamo o pensiamo di sapere e ciò che non sappiamo o pensiamo di non sapere la nostra evoluzione ha portato nel tempo a chiudere anche parecchie porte parecchi cancelli nei confronti della spiritualità nei confronti di della nostra parte divina al punto tale che questa luce dentro di noi si è talmente affievolita che sembra a volte che sia addirittura spenta in realtà come diceva l'idea prima non si può spegnere quello è un interruttore che non abbiamo fortunatamente ringraziando dio il potere di andarlo ad azionare la vita stessa aziona quell'interruttore lo aziona nella nascita e lo aziona nella morte tolto questo noi in vita non riusciamo ad andare ad accedere a questo interruttore però la vita stessa poi ci porta a comprendere quanto importante sia ad alimentare questa luce e a spegnere l'oscurità no a spegnere l'oscurità la devi rendere innocua la devi rendere diciamo sempre più luminosa perché anche nell'oscurità bisogna estrapolare la luce che poi deve andare nella luce cioè è come dire che ogni cosa deve sempre convogliare nella nostra lanterna deve restare sempre accesa la fiammella deve sempre ardere e con forza coraggio deve essere brillante deve avere proprio una potenzialità forte perché la brillantezza della fiammella ci serve è indispensabile nella vita e per fare questo deve l'oscurità deve scivolare e io qui ho la bilancia ci siamo portati la bilancia chissà se la vediamo e questa bilancia l'abbiamo fatta qualche anno fa per natale abbiamo costruita noi è uno dei tanti pensieri che ci siamo fatti a vicenda che abbiamo costruito questa bilancia per regalare al cuore la possibilità di essere sempre nella possibilità di essere pesato da se stesso ovviamente non è finta è vera perché qualsiasi cosa li metti sopra veramente funziona ma ovviamente è una piuma deve andare per vedere come il nostro cuore funziona perché la bilancia è necessaria al cuore non è necessaria a nient'altro sì facciamo la spesa ma quello è un altro tipo di bilancia però anche lì il peso deve essere giusto non può essere né maggiorato né sminuito voglio un etto di una cosa e un etto deve essere e la bilancia del nostro cuore deve avere una misurazione e quella misurazione deve essere perché altrimenti se non al cuore manca qualcosa e se manca qualcosa dobbiamo fare in fretta di donarle quello che gli è necessario e quindi questa bilancia che per noi è bellissima ecco poi è tutta proprio è antica perché la bilancia deve essere antica se no non è bella la bilancia perché il cuore è antico è antico come il mondo il cuore è senza età come lo è l'anima come lo è spirito e come lo è la vita perché ci sono tutte le cose che vanno sempre e comunque di pari passo e per avere la possibilità di pesare il cuore per avere la possibilità di dare alla vita un senso al vivere no non alla vita al vivere ogni giorno in senso reale dobbiamo veramente avere la consapevolezza di avere il cuore ma non il cuore che batte quello lo sappiamo anche se non lo sappiamo oggi il cuore da tanti problemi a livello fisico ma anche perché a livello spirituale il cuore il cuore è mancante di tante di tante cose è mancante d'amore è mancante di comprensione è mancante di credo è mancante di consapevolezza è mancante di bellezza è mancante di ogni cosa di una carezza di un sorriso noi siamo mancanti questo è il tempo è il tempo dove siamo mancanti del cuore siamo mancanti del cibo per il cuore non tanto quello materiale ma che lì ce l'abbiamo ma non ce l'abbiamo nemmeno lì ma facciamo finta lì di averlo perché magari lì non si misura tanto ma non abbiamo il cibo il nutrimento per il cuore spirituale non abbiamo quella bellezza che magari pensiamo anche di avere non abbiamo belle parole non abbiamo quella quella vibrazione di veramente calma veramente tranquillità veramente aiuto fra di noi fratellanza c'è tutte quelle cose che ci danno la luce questo è il tempo della luce e noi ci dovremmo veramente fare esame di coscienza la luce ma che cos'è che cos'è la fede il credo è dio è il grande maestro è l'energia dell'onda cristica chi lo sa ma non è vero lo sappiamo tutti chi è e cosa è ma il cuore va va nutrito con che cosa con qualcosa di dentro con qualcosa di interiore con un qualcosa che tutta l'umanità deve avere la stessa vibrazione d'amore l'umanità deve vivere a camminare sullo stesso piano evolutivo anche se ognuno di noi si trova in un determinato piano in una determinata condizione della vita in una determinata sponda del grande fiume che porta al mare ma l'umanità tutta l'umanità da sempre vive ogni giorno su questo pianeta perché deve evolvere e dobbiamo evolvere tutti insieme ognuno nel nostro campo evolutivo ognuno per conto nostro ognuno nella propria pagina della vita ognuno nel proprio libro della vita nel proprio cuore nel proprio mente nel proprio livello evolutivo nel proprio ma tutti siamo in cammino su questo piano evolutivo è da tanto è da tanto e ci staremo ancora per tanto altro tempo questo è un momento veramente molto particolare quindi il livello carmico ha messo in funzione la bilancia noi ogni giorno dobbiamo bilanciare cosa facciamo ma da noi stessi cosa pensiamo da noi stessi cosa diciamo qual è il nostro comportamento da noi stessi quanto amore abbiamo veramente per gli altri ma quanto ne abbiamo ce l'abbiamo molto poco bene e chi pensa di averlo perché sicuramente siamo siete non si sa in tanti cerchiamo di insegnarlo non teniamolo per noi non serve a noi stessi perché se uno ce l'ha già ce l'ha ma forse c'è qualcuno che non ce l'ha e ne ha di bisogno che gli venga trasmesso come insegnamento questo grandioso questa grandiosa potenzialità questa grandiosa possibilità di essere in grado di trasferirlo anche agli altri ai fratelli a chi non sa a chi non vuole sapere a chi ha paura soprattutto che ha paura parliamogli d'amore parliamogli della bellezza no della luce di tutto quello che è bello 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 ma dobbiamo veramente parlare e convincere che tutto è bello non c'è cosa brutta cose brutte le facciamo da noi le costruiamo noi purtroppo per noi e per gli altri dio non fa queste cose io dico questo poi dopo per dire la sua parola ederme così perché secondo me e questa è la mia responsabilità che dico è dio il creatore il grande maestro l'onda cristica o chi che sia non è contro l'umano l'umano è fragile noi siamo molto fragili noi siamo piccoli fanciulli che dobbiamo crescere e come i fanciulli che devono crescere hanno bisogno di tante parole una pacca sulla spalla anche un rimprovero anche un'ammunizione però abbiamo tanto bisogno che chissà deve parlare chissà deve raccontare chissà deve aiutare chi non sa al fanciullo più giovane a quello che deve crescere perché altrimenti non sa porre la propria vita come si dice in salvo e per fare questo dobbiamo cercare di comprendere anche i nostri limiti anche le nostre essere esseri umani e come esseri umani siamo fragili siamo delicati siamo pieni di difetti anche di presi ma anche di difetti e riconoscerli non è né uno sbaglio né abbassarsi né volersi mettere da un lato della vita è cercare di comprendere come lavorano i piatti di questa bilancia come dice il titolo positiva e negativa all'interno di noi per riuscire a comprendere come il positivo e il negativo che sono questi due piatti che regolamentano anche il nostro pensiero il nostro giudizio nella vita di tutti i giorni possono fare la differenza nei comportamenti nell'attribuire un senso più profondo alla nostra vita e all'altrua esistenza ed è qui che il grande maestro ci ha sempre insegnato nei suoi scritti nelle migliaia di pagine che ha dettato a Lidia tantissime cose nei confronti della vita stessa e uno dei primi insegnamenti che troviamo scritti all'interno della colana di pagine cadute è appunto il concetto di positivo e negativo che noi lo vediamo molto molto troppo spesso come il bene e il male è una definizione umana quella di bene e quella di male perché non è detto che tutto ciò che per noi è bene sia bene per qualcun altro o viceversa tutto quello che per noi è male possa essere male per qualcun altro quindi già in funzione di questi due parametri dobbiamo un attimino cercare di rivedere tutto quello che ci circonda con un'ottica diversa molto più obiettiva e questo gli insegnamenti dei grandi maestri da Gesù il Cristo Buddha, Mahometto, Shiva e quant'altri hanno costellato la storia dell'umanità ci portano tutti a vedere nel lato bianco e nero della vita gli aspetti invece utili, interessanti che noi ci servono per crescere, per evolvere per imparare a vivere e il primo tra tutti risulta essere la ragione la ragione, il ragionamento, la logica ci dà una grandissima mano, un grandissimo aiuto ed è un po' come l'albero centrale di questa bilancia che fa l'equilibrio tra i due piatti perché con la ragione, con la logica, che non è la logica quella prettamente materiale, razionale senza un minimo di sentimento, di emozione o di fede è una logica, una razionalità invece intrisa di amore intrisa di quella fede, di quel contatto profondo tra la realtà materiale e la realtà spirituale che ci dà l'opportunità di vedere quale sia il piatto della bilancia che in quel momento sta predominando nella nostra esistenza e ripetiamo io, Lidia, che non tutto il male viene per nuocere non tutto ciò che è male è realmente male siamo di fronte a una grande trasformazione l'evoluzione è trasformazione la vita è karma e come diceva la Lidia prima il karma è la vita quindi queste due cose che si completano e si compensano a vicenda formano quelli che sono i due lati che l'essere umano si trova ad affrontare il buio e la luce il bianco e il nero yin e yang il maschile e il femminile come abbiamo parlato già in altre dirette cioè tutta la nostra struttura è fatta di questo meraviglioso dualismo ed è la parte diciamo più profonda di noi stessi che non riusciamo ad esprimere se non pensando alla vita in un altro sistema cioè che non è solo fatta di materia ma bensì che c'è una parte spirituale dentro di noi questa parte spirituale ha il compito di tenerci sempre in contatto con l'universo con il divino con i maestri ascesi con l'onda cristica con il vento del cambiamento con tutti quei movimenti grandi invisibili all'occhio umano intangibili ai sensi umani ma che realmente spingono le nostre anime a questo tipo di percorso a questo tipo di cammino e come diceva Lidia prima non sono vite non è una vita la nostra fatta per soffrire gratuitamente e perché il divino ha piacere che noi viviamo nella sofferenza il divino ci ha dato il dono della vita e attraverso la vita abbiamo scelto con il libero abitrio su quale di quei due piatti della bilancia vogliamo stare e ogni giorno ogni ora e ogni istante scegliamo uno di quei due piatti farlo consapevolmente e qui il discorso della razionalità la razionalità è intesa come consapevolezza il prendere atto il guardare in faccia alla realtà con un punto di vista differente può fare la differenza tra quei due piatti assoluto può fare la differenza dentro noi stessi ma soprattutto nei confronti degli altri delle persone che incontriamo perché incontriamo comunque altre bilance altri moti che si muovono dinanzi a noi in funzione delle fluttuazioni energetiche che esprimiamo con il nostro campo aurico con il nostro modo di esprimerci con il nostro modo di essere noi non sappiamo quante cose in realtà muoviamo continuamente fuori di noi vediamo i nostri gesti un'infinità cioè una cosa veramente un'infinità assolutamente tutto quello che noi facciamo qualsiasi gesto qualsiasi movimento è un movimento di movimento di energia no? e quindi tutti i movimenti che facciamo che sono indotti che sono spontanei eccetera sono movimenti che automaticamente li riceviamo in spontaneità o indotti da altre persone cioè è un è un continuo scambio di questi questi movimenti di queste massicce energie che mettiamo in circolo in ogni istante della nostra giornata e tutte quelle energie in quei milioni di movimenti miliardi di movimenti che facciamo e tutte le infinite espressioni di voce di vocaboli che esprimiamo cioè si mettono tutte in circolo nell'aria e di conseguenza è come dire che ognuno di noi cerca di districarsi no in tutte queste masse di energie che praticamente sono da valutare di come sono in grado di io di assorbire quei tipi di energie che incontro e nello stesso tempo di quanta ne posso assorbire immagadinare dentro di me e quanto beneficio mi portano cioè l'energia cioè l'energia noi siamo fatti di energia quindi l'energia continuamente la espelliamo da noi no la muoviamo e automaticamente ne assorbiamo altrettanta ma da tutti quindi è come dire che tutto questo nel mondo energetico che noi non vediamo più nudo ma la nostra anima lo vede lo sente e si nutre quindi non lo sappiamo se ci nutriamo di luce oppure di opacità oppure di qualcos'altro di nervosismo di rabbia di buio di staticità cioè non lo sappiamo sappiamo solo però che ogni giorno ognuno di noi è più nervoso sappiamo però che qualcosa sta accadendo sempre più da vicino lo sentiamo stiamo vedendo assorbendo i tipi di energie che oggi sono ancora sconosciute ma però che ci modificano il nostro essere cioè siamo e stiamo andando incontro a un mondo nostro di noi stessi differente è meglio è peggio non possiamo sapere forse ognuno di noi deve veramente analizzarsi il più possibile per cercare di capire sul piatto della mia bilancia c'è il piatto positivo dove devo essere meglio di prima perché se non sono meglio di prima c'è qualcosa che non funziona sul mio piatto della bilancia come mai c'è qualcosa quindi il mio piatto della bilancia è malato energeticamente ha qualcosa che non funziona quindi devo cercare io di capire il disarmonico esatto come tu dicevi in cosa nel ragionamento mi devo analizzare mi devo fino in fondo nella mia profondità devo andare ad analizzarmi per vedere cos'è cos'è accaduto cosa c'è che ha fatto fare questo cambiamento e per riuscire a vedere questo cambiamento dentro di noi dobbiamo accettare di non essere esseri perfetti cioè i nostri i nostri pregi i nostri difetti fanno parte di noi come fa parte la vita come fa parte il creato i regni della terra cioè il fatto di avere dei difetti e quindi di avere un piatto della bilancia che apparentemente pende dal lato dove non dovrebbe pendere ci dà la forza ci dà la possibilità ci dà il coraggio lo sprono di crescere interiormente di crescere nella coscienza nella consapevolezza della vita e quindi di dare sempre meno peso a quel piatto portando più valore su quello che riteniamo essere il piatto positivo ma ripetiamo questa questa scelta di bene e di male è troppo netta è troppo definita dentro di noi che offusca anche la nostra ragione la nostra consapevolezza il nostro ragionamento il nostro interloquire con gli altri è troppo spesso offuscato dalla nostra sicurezza di ciò che è bene e ciò che è male ecco io e Lidia vorremmo molto farvi comprendere che sarebbe bene smontare un po' di questa determinazione di selettività degli atteggiamenti dei comportamenti dei modi di essere perché la nostra diversità il fatto di essere diversi è un altro dono di Dio cioè noi non siamo tutti uguali ma non solo perché visivamente fisicamente siamo diversi e allora questo è sufficiente a renderci diversi non siamo uguali perché le nostre individualità le nostre anime i nostri spiriti sono individuali già dall'origine quindi proveniamo da una dimensione proveniamo da un da dei mondi da universi anche che non non contemplano l'unicità del tutto ma contemplano la meravigliosa diversità quindi ognuno di noi ha dentro di sé un bagaglio che non è solo quello evolutivo ma anche quello emotivo sensazionale esperienziale che ci diversifica nella nostra natura più intima più profonda il nostro subconscio andando dentro sempre più in profondità e noi troveremo sempre cose nuove da riscoprire a nostra volta anche con noi stessi figuriamoci nei confronti degli altri di chi ci sta vicino di chi con molta presunzione pensiamo di conoscere talmente bene per poter determinare e gestire anche la vita di queste persone tanto è che pensiamo di conoscerle molto bene in realtà non si finisce mai di conoscere è così la conoscenza non ha mai fine l'espressività dell'essere umano non ha mai fine e quindi il bene e il male che noi mettiamo davanti al alla nostra al nostro pensiero al nostro parlare no ci sporchiamo troppo spesso la lingua di un male che non dovrebbe esistere è quella vena di cambiamento è quella vena di trasformazione è quel punto di svolta che serve a chi a noi agli altri ma a noi questo non ci deve interessare noi quello che ci deve interessare è che comunque un cambiamento deve avvenire per poter ottenere quella pace quella serenità quella armonia che tanto spesso diciamo di volere allora dicevamo all'inizio diceva Lidia all'inizio siamo stressati siamo nervosi siamo in crisi con la vita non sappiamo come affrontare la giornata dalla sera alla mattina diventa la vita impossibile di un inferno bene ma quanto veramente vogliamo cambiare tutto questo perché il problema sta proprio lì non è che cosa dobbiamo fare per ottenere questa armonia perché i modi per ottenere l'armonia forse ce ne sono troppi tanti tantissimi siamo circondati e poi ognuno ha il suo metodo la sua strada esatto ma è lo vogliamo fare veramente il punto focale lo desideriamo veramente questo cambiamento perché quando si desidera un cambiamento così profondo ricordiamoci che dobbiamo immettere in discussione tutto quello che pensiamo di sapere e siamo che siamo noi esatto quindi mettendo in discussione noi stessi forse riusciamo ad aprire la mente perché diciamo forse perché per poterlo fare ci dobbiamo credere veramente che quella volontà sia esattamente quello che vogliamo perché se lo facciamo per fare la mente non si apre il cuore non parla il cambiamento non lo possiamo vedere ma se lo desideriamo veramente e questa cosa un pochettino ci deve anche far soffrire nel senso buono cioè vedere qualcosa che non ci piace per voler desiderare di non vederla più voler quel cambiamento per non voler star male e noi invece voler star male per essere al centro dell'attenzione e ricevere aiuto ma il primo aiuto grande enorme siamo noi con noi stessi che lo dobbiamo cercare e dare e questa è una forza che dove la prendiamo giustamente dove si prende una forza di questo genere dalla fede dal credere dal vedere che c'è tanto amore in tutto quello che ci circonda e in noi stessi che nemmeno ce ne possiamo rendere conto immaginare perché tutto è un gesto d'amore il sole che si alza la mattina noi che ci alziamo dal letto la mattina e aperta e chiusa parentesi tolto debiti karmici che ci impediscono queste cose ok quindi qui stiamo parlando di karma evolutivo dove queste cose potrebbero essere impedite e alcuni potrebbero non riuscirle a fare ma chi non ha questo karma e per la maggior parte di noi è normale alzarsi la mattina è normale che ci sia l'alba e che brilli il sole è normale che le nostre gambe le nostre braccia si muovano i nostri occhi vedano ecco questa normalità non è scontata non è banale è un dono divino è amore divino sopra ogni cosa e non fa distinzione alcuna né con me né con Lidia né con nessuno di voi non fa nessuna distinzione è uguale per tutti il processo il dinamismo è identico quindi perché dobbiamo andare a trovare la diversità dobbiamo andare a mettere carico peso su quel piatto che in realtà alla fine della giornata rimane l'unico piatto caricato di qualcosa ed è quello del peso del gravame della vita cominciamo a trasferire questi pesi sul piatto della consapevolezza dell'armonia dell'amore del credere della fede chiamiamolo come vogliamo e io e Lidia non siamo qui a misurare o dirvi di misurare e misurarci a vicenda questi gradi non siamo qui né a dare un voto né a fare un esame finale perché quando uno dice ma hai la fede sì e come fai a sapere che ce l'hai come si può misurare la fede ma alla stessa stregua l'amore i sentimenti le emozioni cioè come si possono misurare tutte queste cose che sono delle pulsioni sono istintive dentro di noi sono più istintive del nostro corpo stesso delle reazioni fisiche perché sono qualcosa di innato ce lo portiamo dietro vita dopo vita quindi abbiamo a che fare con un mondo invisibile ma talmente vicino e a stretto contatto con noi che si esprime anche poi nella visione e questo ci dovrebbe dare la forza così questo è quanto io e lì abbiamo inteso e stiamo intendendo dagli scritti del grande maestro ci dovrebbero dare la forza queste cose di non rendere la vita perfetta ma renderla migliore di renderla in qualche modo più agevole più facilitate nell'espressività e nell'affrontare quelle che sono le prove poi della vita nella vita anche più leggera soprattutto la leggerezza perché comunque la vita chiede tanto alla vita ma cioè forse davvero abbiamo paura credo io di vedere quanto la vita ci chiede perché è una cosa e poi dà l'impressione che in questo momento c'è una corsa per la vita di chiedere le cose alla vita e non era così tempo fa adesso è velocizzato anche questo la vita ci chiede tutto tutti i giorni ci chiede delle cose ma sono cose grosse sono cose molto pesanti sono cose che vanno a minare proprio il nostro intimo la nostra intimità va a minare la nostra sicurezza va a minare anche la nostra bellezza proprio di noi stessi se sono veramente cose massicce e non siamo molto pronti a questa a questa cosa perché non siamo abituati ad combattere la vita in questo sistema ogni giorno c'è la sua ogni giorno dappertutto arrivano notizie ogni giorno ci sono bombardamenti di cose il nostro cervello è saturo la nostra capacità umana è satura non ha questa capacità di superare così velocemente non siamo programmati per essere dei computer siamo programmati per ragionare siamo programmati per ponderare siamo programmati per valutare le linee della vita di come sono gli accadimenti da vivere da superare e da fare nostri e da farli essere produttivi per il futuro quindi da un lato abbiamo una certa lentezza per fare e raggiungere i nostri scopi ma oggi la vita ci chiede invece all'istante che tutto sia risolto superato valutato e addirittura già impacchettato all'istante è messo da qualche parte e non abbiamo questa capacità per sostenere per lungo tempo questa frenesia questa situazione quindi perché è un paradosso ma di fatto siamo solo esseri umani esatto siamo divini sotto tutti gli aspetti sia interiormente che estremamente ma siamo divini in una linea nella linea umana siamo umani e anche imperfetti molto belli imperfetti fragili come i cristalli delicati ma siamo divini immortali eterni nell'aspetto più bellissimo più meraviglioso che è quello dello spirito animico ma questa è la nostra energia cioè stiamo parlando di due cose completamente diverse perché se parliamo della nostra energia siamo tutto quello che abbiamo detto eternità potenza divinità Dio stesso eccetera nell'energia che ci anima che chiamiamo anima e spirito ma nella materia nel gene nella nella cellula nell'atomo e tutto quello che è la composizione diciamo della terra del pianeta siamo umani siamo fragili siamo organici siamo di un inizio e di una fine non siamo diversi quindi dobbiamo capire cos'è che abbiamo cioè cos'è che vogliamo in prima battuta vogliamo essere spiriti animici divini eccetera o vogliamo solo essere organici con la mente con le potenzialità che abbiamo perché ne abbiamo in infinità però siamo comunque del mondo del finito iniziamo e finiamo cioè ci sono queste grandi realtà il maestro giustamente dice sempre dovete avere la consapevolezza esattamente di cosa siete e di come siete specialmente in questo tempo dove sottolinea gli ultimi tempi perché poi l'umanità entra nella sua modificazione totale ma prima deve passare attraverso delle consapevolezze diciamo complete per avere la realtà di quello che stiamo vivendo quindi il maestro dice abbiate la forza di vedere esattamente come è composto l'umano da sempre però che a oggi viene la possibilità di vedere cosa la scienza racconta dell'essere umano perché la scienza racconta di come siete fatti in parte perché ancora non sa tutto la scienza ma comunque lo imparerà lo scoprirà un poco alla volta nel tempo e questa stessa scoperta la dovremo fare anche noi con noi stessi non dobbiamo aspettare che sia la scienza o qualcun altro a scoprire chi in realtà noi siamo esatto questo è un nostro compito aspetta a noi capire chi in realtà noi siamo da dove proveniamo e non vuol dire credere a quello che diciamo io e Lidia o a qualcun altro ma vuol dire sentire sentire vuol dire sapersi ascoltare e sapersi ascoltare vuol dire mettersi in connessione con tutto e con tutti poi da questa connessione chiaramente deve venire fuori quello che è la corrispondenza con il nostro interiore con la nostra coscienza con il nostro modo di percepire le cose quindi quando pensiamo al mondo dello spirituale alla spiritualità alla religione alla filosofia e tiriamo le file tiriamo le somme quella è meglio di quell'altra quella è meglio di quest'altra adesso faccio questo poi dopo faccio quello di fatto va bene tutto in realtà sono tutte strade queste che devono portarci verso la fede verso il cammino spirituale verso il contatto con noi stessi per ritrovarsi e ritrovarci nella reale identità di cui siamo origine di questa vita quindi partendo da questa ricerca è chiaro che ogni strada che è un ventaglio meraviglioso davanti a noi può darci delle risposte non ce n'è una sola di strada e non c'è nemmeno una sola risposta quindi l'essere umano guardandolo dall'alto da fuori del pianeta terra ci guardiamo e vediamo questo pianeta fantastico meraviglioso dove tutti gli uomini con colori della pelle diversi con vestiti diversi con culture diverse lo abitano nella sua interessa e questa interessa è fatta di biodiversità ma anche di diversità intellettive spirituali filosofiche come facciamo a dire che una è meglio dell'altra si può una è più alta dell'altra oggi potremmo essere qui anzi oggi siamo qui perlomeno io e Lidia siamo qui voi nella vostra realtà ma domani inteso la prossima vita non è detto che siamo ancora qui perché quello che ci può servire nella prossima vita può darsi che lo dobbiamo andare a ricercare in un'altra nazione di questo pianeta a quel punto ritorniamo nuovamente fuori dal pianeta terra e andiamo a vedere se la condizione della vita precedente è cambiata nella visione di meglio questo meglio l'altro chiaramente cambia tutto perché ogni vita è a sé e non ricordando quella precedente non abbiamo il peso la misura di quella che stiamo vivendo in funzione di quella precedente ma questo è un regalo è un dono perché riusciamo a vivere questa nella sua interessa riusciamo a viverla esattamente come scegliamo di viverla quindi non mettiamoci a priori come giudici dell'esistenza uno contro l'altro esattamente no mettiamoci invece in collaborazione poi ognuno si tiene il proprio sentore si tiene il proprio credo si tiene il proprio dio si tiene la propria vita ma non escludiamo niente e nessuno mai a priori perché perché la vita di tutto il pianeta terra e tutti gli 8 miliardi di esseri che lo abitano è un dono divino cioè tutto questo è un dono divino poi diventano 8 miliardi di doni sì perché ogni vita ha la possibilità di essere unica però il gesto primario è stato il dono della vita e l'abbiamo ricevuto tutti nella stessa misura questo è uno dei principi di base per intraprendere un cammino di risveglio di consapevolezza sì anche perché lo stesso pianeta con tutto quello che c'è all'interno del pianeta sotto sottosuolo superficie cielo e tutto esiste solo ed esclusivamente nello stesso respiro cioè c'è un respiro solo un battito solo e questo respiro e questo battito praticamente crea l'esistere e la vita per tutto quello che è il pianeta stesso cioè quando è la fine cioè noi siamo un'unica cosa quando diciamo tutti nell'uno l'uno nel tutto ecco cioè noi siamo così cioè questo solo questo ci dovrebbe fare comprendere la bellezza dell'essere umano che che abbiamo tutti quanti la stessa potenzialità lo stesso miracolo della vita e le stesse ma lo stesso di tutto cioè ognuno è il tutto dell'altro perché il nostro corpo è identico a un altro viviamo tutti dello stesso cibo della stessa madre terra dello stesso padre il pianeta cioè ognuno ha le stesse cose i genitori cioè i genitori maschi e femmini umani sì ma prima la paternità e la maternità ce l'abbiamo dal pianeta ce l'abbiamo da questa da questo meraviglioso essere vivente prima di noi quest'orgono questo quest'orgono grandioso che è di una bellezza proprio fa male dal gran che è bello non meno quando io devo dire quanto è bello il pianeta non mi vengono mai le parole e quindi sforfuglio un attimo e dico che mi fa persino male guardare di quanto è bello il pianeta basta guardare anche questa immagine qui dietro è solo un'immagine statica lì ma che bella ma che bella è queste ali che volono queste gabbiani questa quella barchetta che va ma che immagine bella è già ti armonizza solo se sei nervoso se guardi quella giubito ti calmi quindi abbiamo tante cose veramente e cercare di ogni giorno di più metterci un po' di buona volontà per vedere ma in che meraviglia di pianeta bello viviamo quanto belli siamo noi ma quanto importanti siamo ma quanta capacità abbiamo e quanto valore anche abbiamo è veramente bello il massimo di come devo dire ma forse dopo non ci sono nemmeno le parole se riusciamo a comprendere veramente l'essere umano di quanto è bello abbiamo alcune domande Lidia si avevo sentito si l'hai sentito energeticamente che era arrivato c'era un po' di brugio sotto ok quindi andiamo subito alle curiosità sì allora iniziamo da Giovi ciao ciao Giovi la conoscenza spirituale ci permette di bilanciare i due piatti della bilancia assolutamente sì assolutamente sì perché i piatti della bilancia sono del cuore della luce del cuore della leggerezza del cuore la mente non c'è la mente non c'entra la razionalità non c'entra non c'entra non c'entra quindi la bilancia è del cuore della giustizia divina di quello che interiormente una persona sente ma non nei sensi umani nel senso spirituale nella nella nel sentimento dell'amore quello reale quello sentimento dell'amore di creazione sentimento d'amore quello supremo del di Dio del creatore ecco la bilancia i piatti della bilancia è la giustizia di se stesso dell'essere umano paola ciao ciao a fine giornata come comprendo quale piatto della bilancia ho riempito beh penso che né tu purtroppo e meno male né tu e nessuna persona può capire e può valutare cosa ha messo e quanta luce o quante piume o quanto amore abbiamo messo nel piatto della bilancia prima di tutto sono risultati che li vediamo un po' nel tempo perché sono risultati che soltanto il simile può dire di averli ricevuti se il simile non si esprime nei risultati o nei doni ricevuti dall'altro simile purtroppo ancora il nostro piatto della bilancia non ha completezza non è così facile non è così facile misurare ma poi come diciamo anche prima non è nemmeno giusto misurare così mettendo le tacche ai livelli ma il simile te lo dice il simile te lo dice e poi se sei sicuro se sei sicura di aver fatto del bene a te stesso e agli altri lo sai non hai bisogno né di contarlo né di dimostrarlo né farne il resoconto massimo ciao ciao ascoltando le vostre parole cerco di visualizzare quella bilancia nel movimento continuo nel più e nel meno è la nostra coscienza che è giusta l'ago di questa bilancia beh sì certo la coscienza lo stato di coscienza quando si mette in movimento il piatto della bilancia si inebria no vibra vibra di amore vibra di luce di gioia di leggerezza perché lo stato di coscienza è come si dicesse oh finalmente praticamente l'intelletto la mente tutto quello che è il composé della testa umana di tutto quello che sono tutti quei sentimenti di groviglio di sentimenti ha lasciato un posticino al cuore alla alla sua vibrazione che è la voce la voce del cuore la voce dello stato di coscienza e quindi è sì è la coscienza è la coscienza Elide ciao ciao in questo ragionamento che state facendo sulla bilancia della vita centrano i sentimenti? centrano i sentimenti certamente i sentimenti sono comunque sempre il motore umano che deve bilanciare che deve far comprendere che deve comprendere perché i sentimenti poi sono legati a una un'espressione che per noi non è che sono molto contemplati che è il livello caratteriale gli infiniti livelli caratteriali e anche gli infiniti livelli comportamentali e di conseguenza i sentimenti devono andare a livellare queste due grandiose espressioni che governano sull'istinto cioè voglio dire noi abbiamo degli attributi per vivere perché dobbiamo averli perché altrimenti se no non avremmo la grinta la forza il coraggio eccetera di affrontare le prove della vita no le difficoltà quindi i sentimenti centrano si sa ma i sentimenti dovrebbero essere colmi d'amore e di comprensione eccetera per poter dare una regolata all'istinto al comportamento al carattere e a tutto quello che a volte è troppo gestito dalla mente ok altre domande al momento non ci sono abbiamo ancora qualche minuto prima della chiusura di questa bellissima serata e ringraziamo tutti voi per aver partecipato e per aver fatto le domande perché le domande sono un punto importantissimo per stimolare la coscienza la consapevolezza il voler veramente cambiare se stessi parte sempre dalle domande dalla curiosità il voler sapere ricordiamocelo sempre è il lago della bilancia per riuscire a determinare che cosa è che cosa serve che cosa vogliamo fare della nostra vita quindi smettiamo di misurarci in continuazione nelle nostre capacità e incapacità cerchiamo di dare più spazi invece al nostro cuore ai nostri sentimenti alle nostre pulsioni ai nostri intuiti ai nostri istinti non quelli primordiali non quelli umani bassi che feriscono noi e gli altri ma l'istinto amorevole che alberga dentro di noi e tutto intorno a noi quello che ci rende coesi in condivisione con il creato cerchiamo di dare questo spazio a noi stessi cerchiamo di darci aria di cominciare a decomprimere questa pesantezza che abbiamo addosso soprattutto noi occidentali che siamo molto frenetici nervosi stressati nevrotici anche perché tutto questo porta solo ad un'unica purtroppo risoluzione la malattia la solitudine la perdita del contatto con noi stessi la perdita del contatto se ce l'avevamo o se ce l'abbiamo con il divino con la nostra parte spirituale non permettiamo a noi stessi di fare tutto questo dobbiamo educarci dobbiamo allenarci per me per Lidia non è una cosa fatta e conquistata quindi non è che vi parliamo vi diciamo queste cose perché per noi è tutto più facile quindi abbiamo la pretesa di far comprendere a voi con la stessa facilità quello che noi abbiamo fatto su noi stessi perché noi non abbiamo ancora finito perché noi come voi siamo in cammino per trovare la luce per trovare le risposte per trovare la consapevolezza sempre maggiore di essere veramente frutto di un amore infinito di Dio del Padre del cielo dell'universo delle forze che albergano fuori e dentro sopra sotto di noi tutto attorno a noi non c'è niente lasciato al caso noi stessi non siamo un caso quindi come gesto d'amore ricerchiamo quell'amore ricerchiamo quel principio che ci ha dato la possibilità di essere qui e vivere una vita meravigliosa con le sue difficoltà perché non le escludiamo a priori siamo i primi a dire che la vita non è facile neanche il cammino spirituale non è facile niente se lo guardiamo dal piatto della bilancia che pende verso la pesantezza verso l'oscurità verso quel lato oscuro di noi stessi diamo invece i carichi da 90 mettiamo la nostra volontà mettiamo il nostro cuore mettiamo la nostra curiosità sul piatto della luce sul piatto della crescita dell'intraprendenza dello sviluppo che non è solo quello materiale è anche quello intellettivo consapevole cosciente diamogli peso sempre ogni giorno di più portandogli quel cibo che gli serve che è il cibo dell'amore è il cibo della ragione dell'intelletto della fede di tutte quelle piccole grandi conquiste che facciamo attraverso chi in primis con noi stessi ma in seconda battuta quasi contemporaneamente con gli altri perché come diceva Lidia prima gli altri e senza gli altri noi non siamo nessuno non riusciremo non riusciremo mai a capire fino a dove siamo arrivati quanto sappiamo quanto in realtà stiamo mettendo in pratica le cose buone della vita ciò che è bene ciò che è male è una distinzione che la possiamo fare soltanto confrontandoci da soli va tutto bene e va tutto male cioè il piatto della bilancia non esiste assolutamente e poi vorrei dire prima di chiudere che comunque anche il materiale non ha così sempre ragione di superare lo spirituale perché bisogna lasciare un poco di spazio anche al cuore un pochettino di considerazione al cuore alla mente quella mente dove vuole sognare quella mente dove vuole viaggiare un po' nei mondi superiori un po' più in là più in alto più in qua nel cielo nelle stelle dove vuole ma bisogna lasciare anche quello spazio dove abbiamo il diritto di andare a rigenerarci ogni volta che lo vogliamo che non è il piano terrestre ma è un piano superiore è un piano dove la materialità non c'è dove la materialità non gestisce la vita dove non devi essere così bravo così importante per tutti e dove non sei misurato ma sei misurato soltanto da te stesso nel tuo cuore e in quello che è la tua intenzione quello che è il tuo sentire quello che è il tuo contatto con te stesso o stessa e quello che è il tuo bagaglio evolutivo il tuo bagaglio evolutivo il tuo cielo che quando alla fine sei te esatto ognuno siamo noi nel nostro cielo e con questo bellissimo pensiero di Lidia vi salutiamo e vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato anche questa sera alla diretta con me con Lidia e vi invitiamo nuovamente per chi non ha seguito dall'inizio a partecipare domenica al caffè della fonte con Antonio Pacetti la numerologia vedica quindi avremo questo ospite veramente speciale con noi e vi invitiamo anche a seguirci sul nostro sito www.lidiagambuti.com dove troverete sia tutti gli ospiti che partecipano al caffè della fonte ma anche tutte le ultime novità sui libri di Lidia sulle mie illustrazioni e su quelli che sono gli eventi futuri adesso andiamo verso il Natale quindi ci sarà un crescendo di eventi e anche un crescendo di sorprese che vi invitiamo a scoprirle mano in mano assolutamente grazie infinite di nuovo grazie a tutti buonanotte ciao ciao buonanotte ciao buonanotte